Nel video precedente abbiamo analizzato le idee intorno alle quali si costruisce il carne dei sepolcri e avevamo analizzato come fondamentale il tema della memoria, individuando questo tema nelle sue declinazioni private, storico-antropologiche, etico-civile pubbliche, mitico-poetiche e memoriali. In tutti e quattro questi aspetti memoria e sepolcro, o meglio il sepolcro come emblema della memoria, rappresenta un nucleo concettuale profondamente umano e valoriale. Possiamo dire sostanzialmente che attraverso questa composizione il foscolo riformula quel conflitto che lo aveva caratterizzato già dalle opere precedenti. In che modo viene riformulato? Allora, Foscolo arriva a conclusione della sua vita senza mai cancellare dal suo orizzonte ideologico un'idea di tragicità del destino. L'uomo rimane sempre un ingranaggio nel meccanismo di natura e la possibilità del ricordo rimane potenzialmente molto molto fragile. Tuttavia, attraverso questa opera, egli propone una nuova spinta morale. Egli afferma la volontà, nonostante tutto, di portare avanti, di comunicare, di rendere vivi quei valori che umanizzano i rapporti sociali e che rendono quindi la vita degna di essere vissuta. Lo abbiamo detto nel video precedente, a differenza che nelle lettere di Jacopo Ortis, nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, in cui questi valori non possono essere affermati nella realtà e quindi il protagonista è destinato alla sconfitta e al suicidio, nel carme dei sepolcri questi valori, lo ripetiamo, rendono la vita degna di essere vissuta. Qual è la struttura di questo lungo carme? Allora, ricordiamo che si tratta di un'opera silloge, cioè un'opera dentro la quale confluiscono tutti gli elementi della personalità storica, della personalità biografica, della personalità poetica di Ugo Foscolo. Quindi un'opera che sintetizza elementi della personalità, delle radici culturali e filosofiche e anche della concezione della poesia. Il testo è particolarmente composito, è infatti inusuale trovare un'argomentazione di stampo sociale, sociale e sentimentale in poesia. Infatti nel carme dei sepolcri confluiscono elementi fra di loro apparentemente opposti, cioè la lirica, l'elemento sentimentale, l'elemento individuale e l'argomentazione di stampo appunto socio-filosofico confluiscono l'introspezione, per cui siamo di nuovo in una dinamica individuale e il valore civile, quindi una poesia proiettata all'esterno, proiettata sulla società, e il coinvolgimento biografico insieme alla volontà di portare avanti una poesia alla maniera delle favole antiche, alla maniera dei greci soprattutto, alla maniera degli antichi, epoca in cui la poesia poteva stimolare l'immaginazione. Dal punto di vista della struttura, cioè come questa argomentazione si sviluppa nel corso degli endecasillabi, è possibile ricavarla dalla lettera che Foscolo scrive all'abate Guyon che lo aveva stroncato, che aveva stroncato la sua opera in un articolo pubblicato su una rivista. In questa lettera così si legge «I monumenti, inutili ai morti, giovano ai vivi, perché destano affetti virtuosi lasciati in eredità alle persone da bene. Solo i malvagi, che si sentono immeritevoli di memoria, non la curano. A torto adunque, la legge accomuna le sepolture dei tristi, cioè dei malvagi, a dei buoni, degli illustri a degli infami». Questa è la prima sezione, i primi 90 versi di questa argomentazione poetica. Sintetizzerà questi contenuti. «Istituzioni delle sepolture nate col patto sociale, religione per gli estinti derivata dalle virtù domestiche, mausolei eretti dall'amor di patria agli eroi, morbi e superstizioni dei sepolcri promiscui nelle chiese cattoliche, usi funebri dei popoli celebri, inutilità dei monumenti, alle nazioni corrotte e vili». Questo paragrafo sintetizza la seconda parte del carme dei sepolcri. «Le reliquie degli eroi destano nobili imprese, nobilitano le città che le raccolgono, esortazione agli italiani a venerare i sepolcri dei loro illustri conterranei e contemporanei». Ecco, questa è la terza parte dei sepolcri. «Anche i luoghi dove erano le tombe dei grandi, sebbene non ve ne rimanga vestigio, non ne rimanga traccia, infiammano la mente dei generosi. Quantunque gli uomini degregia virtù siano perseguitati vivendo e il tempo distrugge i loro monumenti, la memoria delle virtù e dei monumenti vive immortale negli scrittori e si rianima negli ingegni che coltivano le muse». Cioè il tema della poesia eternatrice che sopravvive alla mortalità umana e anche allo scorrere implacabile del tempo che distrugge le memorie. «Testimonio il sepolcro di, lo scoperto dopo tante età dei viaggiatori che l'amor delle lettere trassa a peregrinarne la troade, sepolcro privilegiato dai fati perché protessero il corpo dell'Ettra da cui nacquero i Dardani, di autori dell'origine di Roma e della prosapia dei Cesari, signori del mondo». L'autore chiude con un episodio sopra questo sepolcro. Attraverso questa lettera ripercorre le, diciamo così, le parti fondamentali del carme che troviamo qui sintetizzati. Il sepolcro, prima parte, rappresenta un legame di memorie e di affetti, rappresenta una testimonianza delle tradizioni di una comunità, seconda parte, vedete a destra indicati i riferimenti dei versi. Il sepolcro come esempio di nobili azioni e, infine, il sepolcro come memoria del passato attraverso la poesia. Come queste tre parti, quattro parti, si articolano all'interno dei 295 endecasillabi attraverso quelle che Foscolo definisce transizioni. I passaggi logici non sono sempre immediati e Foscolo in questo modo chiarisce ai suoi detrattori come debbano intendersi questi passaggi. Egli intendeva creare una tessitura che, afferrando, quindi soffermandosi sulle idee cardinali, lascia ai lettori la compiacenza e la noia di desumerne le intermedie. Quindi Foscolo richiede al proprio lettore di indagare attivamente questi passaggi, queste transizioni, nel momento in cui non sono così chiaramente definite. Tuttavia il Carmen, fra i contemporanei, ebbe numerosi giudizi negativi. Ricordiamo in particolare Ippolito Pindemonte, il dedicatario dell'opera, che afferma che il Foscolo avrebbe potuto essere meno dotto e antico e un po' più chiaro e moderno. Bettinelli, l'editore, che lo aveva definito oscuro. E Melchiorre Cesarotti, il suo maestro, che lo definisce un fumoso enigma. Tutto questo accade anche perché il linguaggio e lo stile sono particolarmente elevati. Se vi ricordate, all'inizio del primo video avevamo parlato di argomento grave, tono solenne, tono sostenuto. Nonostante la scelta dell'endecassillabo sciolto, che segue in un certo qual modo la discussione argomentativa, siamo comunque di fronte ad un testo poetico. Un testo poetico in cui in particolar modo le figure di posizione sono particolarmente frequenti e servono in realtà a enfatizzare particolari concetti, a renderli maggiormente in risalto rispetto agli aspetti diciamo così meno significativi. In particolare ricordiamo alcuni elementi. Il periodare è ampio e articolato, organizzato anche attraverso un ampio uso degli enjambe man e delle figure di posizione. Gli accoppiamenti semantici sono spesso inconsueti. Gli enjambe man, dicevamo, sono particolarmente frequenti e permettono al verso di avere un andamento più discorsivo e in essi sintattici, cosa diciamo così strana o non particolarmente utilizzate in poesia, sono invece estremamente frequenti. Questo è, diciamo così, un'introduzione generale a questa opera così significativa per la poesia del foscolo, così importante anche per la sua visione della letteratura e che ha lasciato segni così determinanti nella concezione, nella tradizione poetica italiana. In questo modo abbiamo tentato di aiutare i nostri lettori alla comprensione di questo testo. Seguiranno una serie di video volti ad analizzare le quattro parti di cui si compone il carne. Grazie dell'attenzione.